Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla carriera con Newcastle, qua come sempre il vostro tiz, siamo arrivati all'episodio numero 9 e come vedete dalla classifica siamo al settimo posto, a meno 1 da United e Wolverhampton, col Wolverhampton che deve ancora giocare ma ci sono il Chelsea e l'Everton ben distanziati dietro di noi, per cui come avevamo già notato all'inizio di questa stagione in Premier League a scanso di equivoci, a meno che non vinca l'FA Cup o la Carabao Cup, una squadra sfavorita o comunque sotto di noi dovremmo esserci, dovremmo esserne la zona Europa League che comunque sarebbe un traguardo importantissimo per una prima stagione con il Newcastle per cui nonostante le eliminazioni da Carabao Cup e FA Cup in campionato stiamo andando molto bene speriamo quest'oggi di non dover sclerare come nell'ultimo video e di riuscire a inserire un po' di vittorie di fila per avvicinarci a questo obiettivo finale andiamo sul calendario, vi faccio vedere, oggi avremo il Southampton, avremo lo Sheffield, la Stonevilla andremo nel mese di aprile con anche il Bournemouth, tutte sfide abbastanza alla pari e come potete notare sarà già praticamente il penultimo episodio della prima stagione il giro di Boa del mese di gennaio è andato molto veloce e adesso nel giro di un paio di episodi arriveremo già alla stagione numero 2 che sarà poi speriamo quella davvero da godere con questa squadra perché avremo già messo delle basi importanti sul mercato e anche a livello di competizioni inserire anche l'Europa League davvero crea molto più spettacolo però ragazzi nel frattempo una gara alla volta andiamo a giocare contro il Southampton, saremo fuori casa questa è la formazione, non so se ho già notato tutti gli upgrade Joe Linton è un 80 adesso voglio giocare comunque con Almiron sulla sinistra e con E sulla destra perché Almiron sulla sinistra ha fatto molto bene e se Maxime ha bisogno di qualche giornata di purgatorio poi vedremo se tenere sempre la solita squadra o se fare dei cambi perché adesso con l'arrivo di Alfonso Davis soprattutto ma anche Gamero abbiamo molte più opzioni anche per fare del turno o comunque per variare un po' la squadra ok non c'è altro da aggiungere, va bene così, possiamo andare in campo possiamo dare il benvenuto alla Premier League Southampton contro Newcastle United ecco lo stadio, niente, io a me mi inizia a irritare quando vedo questo pallone perché c'è in ogni grafica allora maglie disgustose ovviamente però almeno si vedono Southampton ha subito 71 gol ed è la peggiore difesa del campionato quando mi fanno vedere questi dati di solito io tremo, non è che gioisco, tremo Jonathan David, icone, icone, grande parata di McCarthy sul tiro di Jonathan Iconet su dove corre Jonathan Iconet, 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 palo, palo, attenzione calcio d'angolo, Dennis Lazaro il tiro, palla fuori ci ha provato Hoisberg attenzione Jonathan David, molto bene per Almiron e poi dentro è il miracolo di McCarthy miracolo di McCarthy sul tiro di Jonathan Iconet ha fatto davvero un miracolo attenzione dall'altra parte qua ci arriverà un loro giocatore quindi stiamo attenti ai contropiedi Jonathan, Jonathan, proviamo con Jojo traversa micidiale di Jonathan con tutta la potenza che aveva in quei cannoni che ha al posto delle gambe bravo Weston McKennie, questa è una grande apertura per Almiron Almiron, 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 Almiron dentro Jonathan 0-1 è sempre assist di Almiron ed è sempre gol di Jonathan davvero fenomenale questa manovra del Newcastle l'abbiamo trovato Almiron libero sulla sinistra trovato, pescato benissimo da McKennie e poi qua grande gol da rapace d'area per il nostro numero 9 brasiliano Jonathan David Joalenton Joalenton para al portiere vai Shelby para ancora McCarthy farei un cambio ragazzi allora lo sapevo gol al 93esimo del Southampton non lo pare niente ogni tiro loro è gol e quando noi non segniamo tanto arriva un pareggio veramente punti buttati via qua una partita disgustosa non mi piaceva neanche da vedere perché le maglie erano inguardabili davvero in difficoltà il Wolverhampton vuole Dubravka bene sicuramente farà dei miracoli contro di noi già lo so questa però non è una cifra che noi possiamo accettare trattiamo per 20 milioni lo potete anche prendere allora Dubravka a 31 anni se lo vendo a 20 milioni abbiamo fatto l'affare 18.4 19.5 dai Wolverhampton dai è una grande notizia questa perché lo metteranno in campo al posto di Rui Patricio e quindi non avremo più contro Rui Patricio quando affronteremo il Wolverhampton è un'ottima notizia però nonostante il mercato sia chiuso a questo punto dobbiamo già muoverci sul mercato per prendere un portiere per la prossima stagione grande notizia allora Woodman è già salito di tre l'abbiamo richiamato dal prestito per un motivo ora è la tua occasione Woodman non deluderci Newcastle contro Sheffield abbiamo buttato via davvero abbiamo davvero buttato via dei punti importanti nella scorsa gara per cui adesso voglio andare a St. James Park con un solo obiettivo che è quello di vincere Jonathan dentro Jonathan David stop il sinistro para Anderson è un'occasione per vedere Anderson che si mette in mostra attenzione calcio d'angolo Anderson spazza molto bene e allora sì Sam Maximan dai dai Sam Maximan che sei un razzo Sam Maximan Sam Maximan 1-0 torna al gol santo massimo decimo meridio Sam Maximan dai ragazzi vedi che serve lasciarli fuori qualche partita serve ha fatto bene a Icone ha fatto bene ad Almiron adesso sta facendo bene a Sam Maximan che qua se l'allunga così tanto che devi stare veramente attento quando tiri stava di nuovo per andare addosso al portiere però è riuscito col sinistro a piazzarla dai ragazzi 1-0 incontro il piede con Sam Maximan Sam Maximan Sam Maximan Sam Maximan Sam Maximan para no no fuori gioco di Joe Linton occhio ragazzi potrebbe arrivare il loro gol perché non mi seleziona più i giocatori attenzione Woodman dai però ragazzi decidetevi lì dietro non si può concedere un calcio d'angolo così vai Sam Maximan vai Sam Maximan Jonathan David para Anderson Joe Linton Joe Linton guadagna un fallo grandissimo grande Giojo dai ragazzi è finita dai ragazzi che è finita è finita 1-0 contro Sheffield avevo troppa paura di subire anche in questa partita una beffa finale invece tre punti d'oro tre punti d'oro e tutto grazie a Sam Maximan sono due partite che non segna Jonathan David questo sta diventando un problema per noi ma soprattutto per lui che vuole vincere la classifica a capocannonieri qua c'è un po' di casino vedete che ci sono delle partite da recuperare noi non abbiamo la coppa e quindi abbiamo già 30 partite giocate Wolverhampton 28 e Manchester United 29 però Manchester United se vince al massimo viene a pari merito con noi non sta facendo bene lo United perché abbiamo regalato dei punti per strada e comunque loro non ci stanno superando per cui bene così qua arrivano le convocazioni Jonathan David al Canada un applauso McKennie Stati Uniti Sam Maximan Francia Almiron Paraguay Dubravka venduto al Wolverhampton e questa è un'ottima notizia perché se tengono fuori lui Patricio e schierano Dubravka noi siamo a posto hanno un portiere 81 che però a 31 anni non cresce più Dubravka quindi buona mossa anche lì io farei un ragionamento del genere ragazzi allora tra tutti i più forti è Pickford secondo me è necessaria una spesa molto importante per lui però se l'Everton non va in Europa League potrebbe voler trasferirsi al Newcastle poi il più realistico è Dean Henderson perché United va in prestito lo Sheffield torna a United non trova spazio per colpa di De Gea va al Newcastle ed è un portiere che ha tanto potenziale di crescita ragazzi è inglese per cui potrebbe essere una bella mossa meno realistici ma più belli sono un I. Simone Meret perché li abbiamo già visti giocare e sono tutti e due molto buggati almeno quando li usa il portiere quindi questi due sono molto affidabili se no Henderson Pickford anche Cragno molto buono la fonte è buono però insomma starei su questi nomi non vorrei allargare troppo i nomi se no facciamo come la volta scorsa che ci mettiamo due anni a scegliere un difensore comunque in attesa tanto non abbiamo nessuna fretta perché Dubravka rimane in squadra fino a fine anno e i soldi non ci arrivano fino a fine anno ok non abbiamo ancora informazioni dal campionato ci vediamo momentaneamente al sesto posto il Manchester United è a meno tre con una gara in meno quindi comunque il nostro obiettivo è rimanere lì obiettivo sarà anche far segnare Jonathan David che è stato staccato da Aubameyang molto dura ragazzi vince la classifica dei marcatori dei capocannonieri della Premier League allora andiamo a giocare contro la Stonevilla che è una squadra che a me piace molto una squadra per cui simpatizzo tanto la squadra è questa Woodman ancora titolare proviamo Alfonso Davis Almirano al posto di Coney andiamo a giocare e poi Alfonso Davis è partito è partito Cana Davis è partito Cana Davis attenzione Alfonso ne vuole subito mettersi in mostra Alfonso Davis il cross e Jonathan palla alta palla alta qua era l'occasione invece per andare subito in rete doppio scambio Jojo attento il difensore Jonathan David palo 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 siamo sfortunatissimi in questo periodo e poi Jonathan David Jonathan David traversa ma non è possibile ma non è possibile e allora Lazaro Murato e allora Jonathan pala fuori madonna mia ragazzi un incubo sta partito ho già capito Jojo e per Jonjo Jonjo Shelby pala fuori madonna mia Shelby le sbaglia tutte e poi la Stonevilla qua Char fa praticamente un gol attenzione che pare in rete gol della Stonevilla è certo come no gol della Stonevilla 0-1 Sam Maximan Joe Lenton Joe Lenton pala fuori non posso segnare non posso segnare oggi devo perderla che peccato palo incredibile incredibile questa partita ragazzi Sam Maximan il tiro uno pari Sam Maximan Sam Maximan Sam Maximan uno pari va bene va bene va bene ancora lunga però abbiamo perlomeno riaguardato il pareggio dentro Joe Lenton dentro Jonathan David 2-1 Jonathan David avevo appena letto in chat uno e ho detto David adesso servi tu è arrivato Jonathan David Jonathan David Jonathan David rivediamo incredibile scambio la manda su Joe Lenton che la la butta dentro ho fatto tunnel su Mings che fortuna qua Alfonso Davis finisce la partita 2-1 eravamo sotto a fine primo tempo l'abbiamo ribaltata 2-1 ragazzi tre punti esplode San James Park di gioia e fa bene abbiamo preso più legni che reti oggi ma alla fine si è riuscita a fare anche due gol loro ovviamente un tiro un gol ma ce l'abbiamo fatta ragazzi stiamo riuscendo anche a battere FIFA in queste ultime partite siamo quinti però come sempre ci sono un sacco di partite da recuperare vediamo se loro avranno pressione a dover recuperare e magari sbaglieranno dei punti allora reso conto vediamo quanto è salito Saavedra vale già un milione ha un potenziale tra il 92 e il 94 quindi questo c'è ragazzi ce l'abbiamo bisogna solo farlo crescere dai portiamo allora in prima squadra Saavedra promuovi notizie da Premier League sale David e diventa un 80 siamo a Joe Linton abbiamo un doppio 80 qua davanti poi è salito McKennie che è diventato un 79 è salito Alfonso Davis che è diventato un 76 vediamo se ci sono altri che sono saliti no ecco qua Saavedra ha delle statistiche buone qua me lo danno sia C.O.C. che A.T. quindi sembra che possa fare il sostituto di Jonathan David a questo punto buona notizia Wolverhampton è solo a più 3 e lo United è ancora molto dietro con una partita da recuperare per cui forse in tutto questo casino il sesto posto l'abbiamo raggiunto abbiamo anche un buon rapporto gol fatti gol subiti abbiamo subito 31 gol ma l'abbiamo fatti 52 Frazer arriverà a 0 vediamo come giocherà al Vitality Stadium Woodman è un 76 non l'avevo visto non avevo menzionato anche la sua crescita riconfermiamo McKennie dai vediamo come se la caverà andiamo in campo Jordan Haib Brooks non c'è che l'hanno già venduto andrà via anche Frazer questa quadra non la vedo bene non la vedo bene comunque Jojo è partito andiamo con Jojo andiamo con Jojo andiamo con Jojo Jolinton 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 il tiro para il portiere subito bene il Newcastle calcio d'angolo calcio d'angolo attenzione rovesciata di Kerrer da calcio d'angolo eh vabbè sei impazzito attenzione a Frazer mi ricordo un po' e zecchia il barco per le sue per il suo fisico ti prego Jonathan David ormai alla cieca so che ti trovo e poi Jojo Jolinton dentro per Sam Maximan che è velocissimo Sam Maximan dentro no Jolinton tanti errori da una parte dall'altra si sente un po' la stanchezza di fine stagione Jolinton Jonathan David dentro Jolinton a girare para Ramsdale provato a incrociare molto bene però il nostro due d'attacco davvero intesa estrema fra questi due attaccanti attenzione calcio d'angolo occhio arriva il gol di Frazer non avevo dubbi ogni tiro è gol comunque ragazzi da due episodi a questa parte gol di Frazer episodio molto difficile ragazzi sono tutte squadre devastanti queste Sam Maximan prova lui miracolo ancora del portiere che ne ha già fatti un po' di miracoli però adesso adesso basta miracoli il cross dentro miracolo rete Jolinton 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 uno pari uno pari uno pari su un altro miracolo del portiere ma ragazzi ma cosa ha parato però Ramsdale madonna mia per fortuna la palla è rimasta lì segna Jolinton incredibile Jonathan David capocannoniere che fa la seconda punta attenzione ad Almiron Almiron 1-2 abbiamo chiuso il primo tempo con un gol apriamo il secondo tempo con un altro gol Almiron 1-2 molto bene ragazzi molto bene rivediamo qua Shelby e poi Almiron finta e poi sinistro sul secondo palo segna sempre Almiron mi spiace per Iconema qua abbiamo un campione occhio para Woodman non ci credo e poi vedo anche lo spazio per uno schema no che schema che schema ma sbaglia il difensore attenzione inciampa anche Jonathan David Jonathan David ha atterrato e ha preso la palla che culo bravo Jonathan facciamo entrare Adrian Saavedra direttamente dal Mexico però lo vedo lo vedo bene dai lo vedo in carne va bene Saavedra 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 attenzione il tiro ma ragazzi è forte è forte è forte questo questo la stoffa finisce la partita 1-2 altri 3 punti abbiamo imparato a gestire il risultato managing the result bene per noi allora lo United ha pareggiato col Brighton lo United ha in caduta libera ma quanto sono felice di questa cosa meno male grazie allo United nonostante qualche passo falso siamo al sesto posto e stiamo facendo qualcosa di straordinario allora informazioni per tutti le FA Cup semifinali sono Leeds City e Crystal Palace Liverpool per cui se dovessero vincere ed è probabile Liverpool e City a quel punto fino al settimo posto se non sbaglio si liberano spazi per l'Europa League come in Italia d'altronde solo che lì ci sono due coppe dall'altra parte ha vinto l'Arsenal quindi siamo messi bene vediamo la classifica giusto per toglierci ogni dubbio l'Arsenal è quarto e City e Liverpool sono primo e terzo per cui siamo messi bene siamo messi bene un Aissimona e un 79 è forte è forte ho paura ho paura di un Aissimona però Dean Henderson ha anche uno stipendio basso sarebbe carino prendere Henderson inglese United tutto il discorso del realismo e farlo diventare un bel portierone giochiamo in casa contro West Ham bene solite maglie solito tutto solito Jonathan David solito San James Park speriamo di poter dire alla fine di questa gara anche solita vittoria perché è l'unica cosa che ci serve adesso prima dei big match finali molto tosto il West Ham non sarà facile affrontarli speriamo in bene dai ci vorrà anche tutta la spinta del pubblico occhio occhio madonna ragazzi Fabian Scherr ha salvato un gol allora devo fare così devo spazzare per forza no neanche neanche anche spazzando perché torna a loro attenzione il tiro para Woodman una parata buona l'ho vista oggi grande Woodman si è fatto male Shelby ragazzi questo è un infortunio gravissimo il capitano si è fatto male si è fatto male capitano Westo Meccani va a soccorrelo arriva la barella qua è caduto male attenzione si è fatto malissimo si è fatto malissimo dentro Jonathan David Jonathan David Jonathan David Jonathan David Jonathan David zittisce tutti in onore di Muto esultanza dello zitti zitti ma soprattutto un'esultanza anche per il suo capitano Shelby bellissimo gol ha un sinistro magico questo talento Jonathan David ventiquattresimo gol penso che stiamo parlando di una qualità scultorea un'abilità artistica una bellezza aurea attenzione Daniel Rose si stringe ad aiutare la squadra attenzione arriva subito l'uno pari oh madonna uno pari gol di Halle niente tutto da rifare occhio occhio chiaramente arriva un altro gol uno due madonna mia che gol che mi ha fatto Felipe Anderson io voglio un portiere forte forte lo voglio voglio un portiere forte mi manca solo quello devo fare i complimenti a West Ham qua niente niente lamentele niente scuse hanno avuto una difesa mostruosa l'unico gol che abbiamo fatto è stato di Jonathan David ma è stata veramente un'invenzione sua perché si è girato di 180 gradi per mettere dentro quella palla attenzione che la mia difesa ha deciso di regalare gol quest'oggi finisce la partita uno o due persa persa giustamente adesso per fortuna abbiamo il City la prossima che è un big match quindi si giocherà in maniera più aperta qua non posso neanche aumentare ho fatto solo un tiro in porta infatti l'ho detto subito che meritavano di vincere niente ragazzi mani in faccia tre mesi di infortunio per Shelby e stagione finita frattura della caviglia stagione finita purtroppo con la sconfitta con il West Ham e l'infortunio di Shelby chiudiamo qua questo episodio mi raccomando non perdete il prossimo perché come vedete la situazione di classifica non è ancora sicurissima lo United può tornare a meno due e abbiamo comunque ancora dietro il Chelsea che avanza ci sono troppe partite per poter già cantare vittoria anche perché le prossime sono City Watford Tottenham Brighton e Liverpool all'ultima giornata quindi ragazzi ci vorrà davvero un'impresa se vogliamo andare in Europa possiamo farcela ma sarà davvero dura per il momento è tutto grazie ragazzi c'è stato un bel mi piace ci vediamo presto con il prossimo episodio Grazie a tutti